Ciao, sono Cristiano Libardi e questa è la puntata numero 0 di Balloon Party V. Oggi vi presentiamo alcune fantastiche novità appena arrivate e pronte da essere comprate da voi su www.balloon-party.it Cominciamo con alcuni coordinati per la tavola, come questo fantastico piattino in confezione da 6, a forma di razzo, bellissimo, luccicante. E il suo bicchiere, naturalmente c'è anche il suo tovagliolo in confezione da 16 pezzi, che si abbina, ed è fantastico per le vostre feste, che si abbina con questo festone. Ve lo faccio vedere, se non rimango incastrato. Bello? Mi sta bene? Andiamo avanti con un altro coordinato a tema spazio. Un bel razzo, sono otto razzi. Qui invece sono 16 razzi sui tovaglioni e si abbinano con un bellissimo bicchiere. Oltretutto questo coordinato ha la possibilità di avere il contenitore per il gelato o per dei marshmallow, altre caramelle. Abbinate quello che volete. Altra festa, tema spazio, con questo coordinato, dove c'è un coloratissimo piatto, insieme al suo bicchiere. E qui c'è la possibilità di scegliere due formati di tovaglioli, un 25-25 e un 33-33. Dopodiché potete abbinarci in una bellissima tovaglia. E ora passiamo invece ai palloncini. Palloncini, abbiamo questo fantastico prodotto, un bellissimo, è anche molto grande. Adesso ve lo faccio vedere dal vivo, perché è bello, bello, bello. Eccolo qui. Bella. Poi l'abbiamo decorata con un festone, che in genere è un festone da attaccare al muro, però noi l'abbiamo trasformato in una decorazione per il palloncino. Vedete, questa è una confezione da 12 pezzi, mentre invece noi ne abbiamo usate alcune in verticale anziché in orizzontale. Questa è un'idea alternativa per questa decorazione. Altro palloncino a tema spazio è questo. Ve lo faccio vedere dal vivo, lo abbiamo gonfiato prima, però l'abbiamo messo in decorazione. Su questo bicchierino, abbiamo usato questo bicchiere, abbiamo inserito un po' di gesso, ma ha delle altre puntate, gli faremo vedere questo giochetto. E poi, con una bacchetta, abbiamo inserito all'estremità il palloncino, un 18 foil. Ok, e poi anche qui una bella decorazione, diversa da quella di prima, anche questa la trovate sul nostro sito. Anche questa è una decorazione da 4 metri, ne abbiamo tagliato un pezzetto, ne bastano 20 centimetri, e lo abbiamo inserito sotto al palloncino in foil. Ed ecco qui la nostra decorazione che dà valore alla composizione. Bella, no? Passiamo ad altri palloncini in foil, anche questi appena arrivati, visto che il tema spazio, il tema intergalattico, è molto di moda, e sarà molto di moda nel 2019. Iniziamo con questo, un 18 foil dell'anagram, colorato, ma sempre tema spazio. Poi il raggio, un classico. Mmm, bello. Questo è proprio bello, e anche abbastanza grande. Poi abbiamo questo palloncino dell'anagram, è molto carino. La particolarità qual è? Prima di tutto che è un palloncino che può essere adatto per qualsiasi tipo di festa. Perché? Perché ci sono decorazioni a forma di stella e non di razzo o di pianeti. Quindi è un prodotto molto flessibile. e ha un'altra particolarità, l'effetto satinato, ovvero satinato e lucido. Ci sono alcune parti del palloncino dove c'è l'effetto lucido e l'effetto satinato, che è molto bello. E poi, per ultimo, questo simpatico UFO. Questo simpatico UFO verde. Questo è un prodotto Partideco ed ha un prezzo eccezionale. Eccolo qui. Andate sul sito e vedete. Ricordate anche che qui sotto troverete un link dove potrete trovare tutti gli articoli che stiamo presentando in questa puntata. Quindi è molto semplice. Cliccate sul link, vi si aprirà la pagina e troverete tutti questi articoli. E se vi piace, a noi farà piacere. Ordinate. E per terminare vi presento tre prodotti in lattice molto, molto bene. Sono fantastici. E vi assicuro che nel 2019 di questi prodotti ne venderete un sacco. Iniziamo da lo shiny stampato. Bellissimo. Versione silver e versione oro. Guardate la stampa. Bellissima. Adatta a molte tipologie di festa. Busta anche bellissima. In formato da 50 pezzi. Miste tra oro e argente. E poi gli ultimi due prodotti. Sempre Gemart. In formato da 50 pezzi. Lo shiny oro e argento. Bellissimo. Ora, ragazzi, io ho terminato. Ci vediamo alla prossima. E vi ricordo che qua sotto troverete un link dove potrete trovare tutti gli articoli che vi ho presentato oggi. In più vi chiedo un favore. Cliccate mi piace qui sotto. E anche sulla campanella. Così sarete avvisati quando pubblicheremo il nostro prossimo video. Ragazzi, vi saluto. Alla prossima. Ciao!